Questa sera sono contento che siate tanto numerosi perché questa sera parliamo di un argomento che è degno di attenzione insomma, il titolo evidentemente è piaciuto perché altrimenti non sareste tanti ed è Donna il Potere che per noi è un tema sempre purtroppo, aggiungo, di non per conquistarmi il pubblico femminile ma è un tema di attualità ricorderete qualche anno fa tutta la storia delle quote rosa cioè della rappresentanza delle donne nelle sedi istituzionali si parla di parità o disparità di genere insomma, è un tema che è ancora oggi attuale e che è sempre giocato su questa contrapposizione tra i sessi se per noi oggi è strano pensare, non per noi intendo presenti ma si pensa sempre in questi interni di contrapposizione bisogna considerare che la cosa era molto più grave all'epoca degli antichi greci perché nell'antica Atene le donne vivevano relegate in casa e per questo l'argomento di questa sera è di particolare interesse perché partiamo, anzi siamo interessati a parlare di due commedie antiche di Aristofane il maggior rappresentante della commedia del V secolo a.C. che ben 2500 anni fa inventò tra le trame delle sue commedie sempre molto fantasiose ne inventò due in cui immaginò ne scrisse due in cui immaginò che il potere arrivasse nelle mani delle donne un'idea abbastanza originale per i tempi perché come vedremo le donne di Norma vivevano relegate in casa non avevano occasioni per uscire poi di questo parleremo in particolare ma è interessante che Aristofane abbia immaginato a un certo punto che le donne prendano il potere decidano di fare la voce grossa di sostituirsi agli uomini e di dimostrare in fondo sulla scena che ad ascoltarle o a lasciarle fare c'è sempre da imparare o perlomeno da rifletterci se in fondo gli uomini sono incapaci per esempio di porre fine alla guerra in corso la guerra dell'epiloponneso se gli uomini non sono in grado di porre fine ai conflitti non sanno gestire la cosa pubblica se su tutti questi fronti problematici gli uomini non ci riescono non riescono a risolvere perché non dare la parola alle donne alle donne che in fondo sono le madri e sono le mogli che in casa già gestiscono l'amministrazione del patrimonio molto interessante, vero? soltanto che a immaginare questo fu Aristofane che era un uomo non solo ma era un comico che cosa avrà voluto dire? cioè avrà preso sul serio la situazione delle donne che prendono il potere avrà voluto riderci sopra avrà voluto magari ammonire il pubblico ateniese che era formato da cittadini quindi uomini a teatro dicendo loro guardate la situazione è già abbastanza grave se adesso prendono il potere anche le donne freschi stiamo, no? insomma è una situazione un po' interessante perché anche interrogarsi su quali fossero le intenzioni di Aristofane non ci porta sicuramente ad una risposta però certo è che si tratta di un'utopia un'utopia vuol dire una cosa che non c'è fra l'altro è una parola che i greci non conoscevano perché utopia è una parola che è stata inventata nel 1500 un pensatore, Tommaso Moro scrisse, anzi descrisse un'isola l'isola di utopia in cui tutti vivono in pace e in concordia e qui facciamo un minuto di silenzio per contemplare insieme questa idea di un'isola che non c'è di qualcosa di irraggiungibile in cui si possa vivere in armonia con tutti questa utopia rientra nel codice del comico vale a dire l'eroe comico il protagonista della comedia di Aristofane è uno che inventa una soluzione rispetto a una situazione di crisi ed è una soluzione che è sempre molto fantasiosa cioè rispetto a delle situazioni di conflitto di difficoltà l'eroe comico è colui che è spregiudicato al punto di trovare qualcosa di fantasioso che anche meglio se è assurdo e che rappresenti una soluzione cioè ridendo e scherzando riesce a mettere in campo un piano che procuri a lui la salvezza oppure alla città ma naturalmente si tratta sempre di un'utopia la trama in cui le donne prendono il potere non è una trama di eversione cioè non è il tentativo di fare una rivoluzione anche questo devo dire è una trama di evasione nel senso che l'eroe comico si misura con i conflitti del suo tempo e inventa delle soluzioni fantasiose per cui nel tempo della commedia si può fare anche questo cioè si può pensare di rovesciare si può pensare a un'inversione di ruoli si può pensare di cambiare il mondo è un po' per paragone uso sempre questa similitudine è un po' come nei carri carnevaleschi nostri non i carri in maschera dove si irridono ai politici del momento ma nessuno pensa che il carnevale sia il momento della rivoluzione è un momento di evasione e Aristofane cavalca bene l'onda dell'evasione l'idea dell'utopia mi avvicino passi passi dando qualche elemento utile l'idea dell'utopia è che noi vorremmo vivere meglio e quanto più la situazione risulta difficile cioè nei tempi travagliati l'idea di poter fuggire l'idea dell'evasione ha sempre tanta forza devo dirvi ancora questo quando Aristofane scrive le sue commedie siamo in piena guerra del Peloponneso cioè siamo di fronte ad un evento che è catastrofico perché per una trentina d'anni Atenesi e Spartani con i rispettivi schieramenti opposti si trovarono a combattere per il potere e questa guerra fu letale fu funesta per Atene perché la portò al tracollo esterno ed interno di fatto Atene aveva una situazione florida aveva un impero sul mare la guerra le tolse anche questo quindi fu ridotta sull'astrico non solo ma sul piano interno questo significò anche il tramonto della democrazia e qui è interessante che Aristofane che per intendersi era un po' come benigni dei tempi passati ve lo ricordate quando faceva satira politica prima che diventasse un illustre dantista all'epoca Aristofane poteva permettersi di ridere di prendere in giro di sbeffeggiare i politici del tempo proprio per quel discorso del tempo della festa ma soprattutto Aristofane se la prendeva con gli aruffa popolo cioè con quelli che in fondo parlavano per parlare e intanto trascinavano nell'abisso gli Atenesi e quindi Aristofane dalla sua scena comica parla di cose serie anche per esempio parla contro la guerra e ne parla perché evidentemente è convinto che sia ora di cambiare questa situazione questa libertà gli è dovuta cioè gli spetta di diritto perché Aristofane prende in giro nome e cognome le persone dell'epoca Aristofane gode della più ampia libertà questo dobbiamo metterlo in evidenza perché è proprio per la libertà che gli consente il momento del teatro comico che può permettersi di dire qualunque cosa e non è un tipo di teatro orientato politicamente perché piuttosto quello che lui dice si basa sul buon senso cioè sul buon senso delle persone che a teatro non potevano che condividere quello che lui diceva e veniamo a noi l'utopia delle donne in due commedie Aristofane immagina in due in particolare che le donne prendano il potere le due commedie sono state scritte a distanza di un ventennio nel 411 la guerra del Peloponneso è ancora in corso nel 391 una ventina d'anni dopo quindi l'amico Aristofane batte il ferro non finché caldo ma a distanza torna sullo stesso argomento i nomi sono significativi e già ci dicono di come fosse originale e fantasiosa il suo modo di scrittura l'isistrata letteralmente è colei che scioglie gli eserciti quindi a costei lui attribuisce la facoltà di porre fine alle guerre fra gli uomini e invece eccleziazzuse è un participio vuol dire le coloro che siedono donne all'assemblea all'ecclesia che era un'assemblea di uomini cioè era un'assemblea a cui partecipavano i cittadini ateniesi maschi quando avessero compiuto 18 anni e ognuno aveva pari diritto di voto e quindi due queste eccleziazzuse era assolutamente una trovata geniale del tutto incongruente era impossibile pensare che le donne andassero all'assemblea eccleziazzuse in italiano è tradotto le donne al Parlamento per intendersi occupiamoci della condizione femminile per capire quanto guadagnino sulla scena di Aristofana le donne ora dobbiamo considerare che non esiste il termine greco cittadina cioè esiste polites in greco ma non esiste il corrispettivo femminile è interessante questo le parole sono sempre interessanti perché abbiamo discusso sull'aministro o il ministro l'aministra queste cose qua il femminile il maschile vedete come anche proprio nelle cariche istituzionali ritorni spesso come problema ebbene le donne non hanno le donne si chiamano donne anche nella commedia non ha osato tanto inventare un termine come aveva inventato Ecclesi Azzuzai le donne sono relegate in casa quindi hanno un ruolo subalterno si occupano del patrimonio ma soprattutto sono escluse dalla vita pubblica cioè una donna non esce sta in casa una donna non si interessa delle cose della città e qui non abbiamo un'immagine dell'istituto Luce un video perché non c'era ancora ma quello che vi racconto si basa sulle testimonianze e qui la testimonianza di Lisistrata la protagonista della prima commedia di cui ci occupiamo che descrive la situazione delle donne che è quella di sopportare di sopportare quello che gli uomini combinano del resto chi ci lasciava affiatare non che ci piacevate ma noi vi capivamo bene spesso pure chiuse dentro riuscivamo a sapere che stavate combinando un grosso guaio allora nascondendo la pena vi chiedevamo col sorriso che sei deciso nell'assemblea oggi che altro decreto per fare la pace che te ne importa diceva lui che il marito pensa stare zitta e io tacevo proprio così e stavo zitta venivamo a sapere di un piano ancora più pazzo allora chiedere marito mio lo state combinando grossa perché uno sguardo e mi fulmine vai a filare attenta la testa spetta gli uomini occuparsi della guerra che poi è il refrain cioè è nella testa dei greci perché anche Ettore ad Andromaca qui rispolvero i vostri ricordi delle scuole di quando avete studiato Epica Ettore saluta sulle mura della città Andromaca e gli dice vai vai in casa perché spetta gli uomini occuparsi della guerra quindi non c'è storia come vedete le donne al potere sono un'utopia politica cioè le donne di fatto si riscattano da una condizione di inferiorità e di solitudine come sono chiamate le donne sono chiamate donne ve l'ho detto ma soprattutto sono chiamate panurgoi ergon in greco vuol dire età vuol dire scusate lavoro e quindi panurgoi vuol dire che sono capaci di tutto panurgoi significa intelligenti significa intraprendenti ma può anche voler dire furbe astute e anche a livello sessuale perché noi dobbiamo pensare che queste sono parole che Aristofano usava e che per i greci dell'epoca avevano un significato in questo caso denigratorio perché si alludeva appunto a livello sessuale al fatto che le donne fossero spregiudicate in amore quindi termini su tre accezioni signore e signori presenti due sono negative ma perché sono negative perché è noto come per gli antichi greci l'atteggiamento fosse quello di misoginia in cui gin ha a che fare con la donna e mis ha a che fare con miseo che significa odiare e quindi ci sono tante espressioni che sono sempre contro le donne tant'è vero che nel corso della commedia l'isistrat a un certo punto dice non sono che una donna e qua tutto il pubblico atenese avrà annuito però lei dice poi ma possiedo la ragione e dopo quel ma c'è la differenza perché la prima parte della frase vuol dire siamo tutti d'accordo che valiamo poco e tutti quanti dicevano certo certo invece poi dice ma possiedo la ragione se avete presente i rusteghi di Goldoni la commedia in cui i vecchi burberi ce l'hanno col mondo e gli uomini sono uomini e le donne sono donne queste frasi qua non sono dei rusteghi di Goldoni ma sono frasi che dice il coro dei vecchi nell'ambito della commedia un malanno manifesto che nutriamo nelle nostre case se cediamo se gli diamo il minimo appiglio non ci sarà più un mestiere che queste con la loro ostinazione non riusciranno a fare non cessero mai di odiare le donne ho reso l'idea e allora a questo punto vediamo cosa fanno l'isistrata decide dunque di agire e insieme alle donne che la affiancano l'isistrata dunque è atenese devo dire questo con precisione poi che cosa fa? c'è la guerra del Peloponnese in corso Atene Sparta con gli alleati contrapposti lei va oltre questo cioè l'isistrata promuove una cooperazione panellenica significa che parla con l'ampitò donna spartana parla con le donne di Tebe di Corinto altre città della Grecia tutte schierate si mettono d'accordo per cooperare per cooperare perché evidentemente ritengono che sia arrivato il momento di mettere pace tra gli uomini visto che gli uomini sono incapaci di raggiungerla siamo nel 411 quindi sono vent'anni che la guerra del Peloponneso è in corso noi partoriamo i figli e li mandiamo soldati quando dovremmo spassarcele e godere la giovinezza dormiamo sole a causa della continua guerra per Dio non è lo stesso uno quando torna anche se ha i capelli bianchi sposa subito una ragazza giovane per una donna primavera è corta se non la ferra chi la sposa più sono frasi sono frasi che motivano le scelte di Lisistrata di andare contro la mentalità degli uomini ma allora potremmo pensare c'è soltanto la disperazione in questo suo in questo suo intento no diciamolo c'è di mezzo la natura femminile perché le donne hanno la capacità di incontrarsi di collaborare di aiutarsi tra di loro sono differenti le donne attorno a Lisistrata sia per città che per stile di vita eppure condividono lo stesso linguaggio sono accomunate dagli stessi intenti le donne non hanno bisogno della cornice formale delle istituzioni perché sono abituate a confrontarsi a mettersi in gioco e sanno anche all'occorrenza creare delle relazioni autentiche di amicizia che consentano di cooperare per un bene comune ecco da questo punto di vista Aristofane che di solito è misogino cioè contro le donne ha intuito un aspetto della sensibilità femminile che ci permette di andare oltre i cliché soliti a cui i greci di solito purtroppo ci abituano che cosa fanno le donne tenetevi forte perché adesso parte il discorso dell'iniziativa di Lisistrata che è senz'altro originale c'è un'iniziativa attiva e una passiva quella attiva è che occupano l'acropoli occupano la parte alta della città che è una parte importante perché ci sono i templi c'è il tempio di Atena ma soprattutto non è una parte importante solo perché ha un significato religioso ma soprattutto importante dal punto di vista politico civile e anche economico perché presso il Partenone vengono conservati tutti i denari che provengono dai tributi delle città alleate di Atene la lega dell'Elioattica Atene è la più forte sull'Egeo ed è la più forte perché gode dell'appoggio anche di città che versano o tributi oppure che danno navi e quindi soldi cioè la prima iniziativa è sui soldi sono attive occupano l'acropoli perché soldi vuol dire flotta flotta vuol dire potere il meccanismo si ferma perché ci sono i soldi di mezzo e la seconda iniziativa è di natura passiva che uno dice è più in linea con le donne dell'epoca sì soltanto che è passiva è originale e forte perché le donne decidono di fare lo sciopero dell'amore cioè non si concederanno più ai loro mariti finché i loro mariti non troveranno il modo di raggiungere la pace ma non solo punta di malizia tipicamente femminile li sapranno sedure come in nessun'altra occasione quindi astensione e seduzione vi lascio solo immaginare quali possano essere i risvolti comici e quindi i soldi e il sesso quindi Aristofane ci sta dicendo che la politica è mossa dai soldi e dal sesso ma naturalmente stiamo parlando di 2500 anni fa no? la scena più bella della commedia che io ho riassunto in poche battute è la scena in cui Cinesia il marito vorrebbe andare insieme alla sua mirrina insomma vorrebbero che si appartassero e stessero un po' insieme ora non penso ci siano minorenni in sala ma è giusto pensare che l'eccitazione di Cinesia si vedesse molto bene in scena ma non è solo lui essere eccitato sono anche tutti gli altri uomini eccitati che compaiono in scena e che proprio alla fine stremati cederanno alle donne e vedremo poi come va a finire prima però di finire occupiamoci di Mirrina Mirrina è la moglie e con un piglio sedutivo non da poco finge da un lato di d'accordo le donne sono assiepate sull'acropoli cioè sono in alto ma Cinesia vorrebbe che Mirrina uscisse e stesse con lui un po' e lei è bravissima perché continua a differire con mille scuse con mille pretesti il momento in cui possono stare insieme pagliaccio davanti al bambino ho appena giurato di no per adesso stupido e dove andiamo a farlo aspetta aspetta portiamoci un lettino ci vuole il paglione a proposito non hai un cuscino una coperta non ce l'hai vuoi che ti profumo voi capite che l'altro a questo punto è esasperato perché alla fine lei esce di scena lo ha sedotto lo ha eccitato quanto più poteva e alla fine lo lascia in asso tant'è vero che lui alla fine decide di ritirarsi si recca nel bordello di cane e volpe e quindi così risolve ma prima di uscire di scena maledice la congiura universale di tutte le donne e questo è quello che capita il caso più eclatante di cui non potevo non riferire e l'altro caso invece gli altri casi su cui non ci soffermiamo sono molto interessanti perché non è che solo gli uomini non ce la facciano anche le donne non ce la fanno resistere e quindi ci sono dei momenti comici in cui vengono riferiti di tentativi di diserzione cioè le donne devono essere unite cioè gli uomini sono lontano no no allora c'è quella che si cala con la carrucola dell'acropoli quella che passa per il cunicolo qualcuno addirittura vola perché nella fantasia di Aristofano c'è anche la possibilità del volo e hai voglia che l'isistrata le insegua e dica a loro che addirittura c'è un oracolo che assicura loro la salvezza purché restino unite che cosa traiamo da questa esperienza della lisistrata traiamo la considerazione che le donne come dicevo prima erano comunque già brave competenti nell'ambito dell'amministrazione a casa pertanto se prendono il potere per loro è facile trasferire le loro competenze amministrative dalla casa alla città cioè dall'oicos alla polis gli stessi modi gli stessi sistemi vengono applicati nell'ambito cittadino e le donne poi viene loro riconosciuto viene loro riconosciuta tutta una serie di virtù femminili che sono il coraggio il talento naturale la razionalità l'amore per la patria la grazia cioè Aristofane dice queste cose o fa dire alle donne queste cose per elogiarne la persona e quindi in virtù di queste loro qualità alla fine si convincono di potercela fare infatti Lisistrata ad un certo punto dichiara alle donne spetterà la cura della guerra che è esattamente l'opposto di quella frase di prima in cui dice stai buona stai in casa che la guerra spetta gli uomini però ci sono dei punti deboli e i punti deboli sono nel fatto che le donne alla fine non si emancipano perché assumono gli stessi comportamenti e gli stessi linguaggi degli uomini cioè vale a dire alla fine non esiste un'idea così alternativa che determini un cambiamento anche solo nello spazio della commedia le donne prendono il potere occupano le acropoli ma in realtà si muovono sempre entro gli schemi mentali che sono maschili e da questo punto di vista emerge tutto il limite dei loro orizzonti domestici però c'è una testimonianza di Lisistrata molto bella sulla quale volevo soffermarvi insieme a voi perché Lisistrata che è il capo di tutto l'avete capito ad un certo punto si trova vis-à-vis testa a testa con un funzionario pubblico che è venuto ad accertarsi della situazione a tentare di ricomporre questo momento di protesta femminile e lei ride quasi dicendo ma scusa ma come voi come dovreste governare con l'esempio della lana e lei spiega e questa è una bella immagine che ci ricorda che Aristofano è un poeta anche se è un poeta comico su che cosa verte l'immagine sull'idea che in fondo ripulire la città dei truffatori dei bugiardi di quelli che arraffano i demagoghi eccetera non è forse come non è la stessa cosa che pulire che creare un gomitolo di lana dal filato ripulendolo togliendoli in purità e quindi è quello che dicevamo prima le donne pensano di fare come fanno in casa e l'isistrata spiega dice l'isistrata come si fa con i fiocchi prima si fa un bagno e poi spurghiamo la città di tutto il sudiciume poi li battiamo su un letto e via tutti i furfanti ed elinquenti eliminati cardiamo tutte le combriccole e le a raffa cariche sfondati la testa li spegniamo e poi in un paniere mescoleremo la concordia comune e la pettineremo mettendo insieme i meteci gli stranieri che vi sono amici e i debitori dello stato bisogna fare un grande gomitolo da cui tessere una tunica per il popolo i classici sono scomodi i classici sono scomodi perché tante volte ci mettono di fronte a dei motivi a dei temi sui quali ci rendiamo conto che sono ancora attuali sono temi che potrebbero essere trattati anche in una lezione di educazione civica in classe per fare un confronto perché lei parla di un gomitolo ma intendete cosa voglio dire parla di un gomitolo in cui mette insieme i meteci che non erano i cittadini erano gli stranieri che abitavano ad Atene ma avevano sempre un patrono con loro quindi non erano cittadini gli stranieri e poi coloro che hanno i debiti nei confronti dello stato quindi mette insieme delle persone che sono eterogenee per estrazione però le accomuna le accomuna perché evidentemente da donna pensa che effettivamente si possa creare un gomitolo anche noi parliamo di tessuto sociale ora che ci penso il tessuto sociale cioè si tratterebbe qui di ripulire di tutti i malfattori il tessuto sociale perché la città possa riavere la pace e la concordia alla fine è vero le donne riescono ad imporre la pace però di fatto alla fine gli uomini salgono sull'acropoli fanno i giuramenti di comportarsi bene eccetera prendono le donne e le riportano a casa quindi alla fine la commedia sul potere delle donne finisce con la ripresa del potere da parte degli uomini è vero che questa idea di dare le donne al potere non è l'unica non è stata praticata soltanto da Aristofane perché c'è tutto un filone e poi torno alla fine su questo perché ricordate che il titolo è tra comico e filosofico ma siamo partiti dal comico c'è tutto un filone ginecocratico cioè vale a dire commedie in cui si parla delle donne che assumono il potere era un'idea evidentemente che era diffusa possiamo chiederci perché ma poi alla fine ne parliamo e ci sono dei titoli tipo ginecocrazia ginecomania sono titoli la foglia delle donne il potere delle donne che erano di commedie che noi non possediamo più perché noi leggiamo soltanto quello che è stato salvato nella tradizione e arriviamo alla seconda commedia l'ecclesiazzuse un termine femminile che non aveva corrispondenza nel linguaggio maschile dell'epoca l'ecclesia l'assemblea che poi fra l'altro ecclesia da ecclesia deriva chiesa in italiano la chiesa l'assemblea dei fedeli ecclesia è un termine centrale nella politica degli antichi perché era lo spazio era il lo spazio entro cui era sulla pince su una collina sotto l'acropoli dove si riunivano tutti i cittadini lo dicevo prima ma lo ripeto perché è giusto diciottenni che avevano pari diritto di voto e partecipavano alla cosa pubblica quindi non è una democrazia rappresentativa quella tenese è una democrazia in cui il ciabattino il falegname l'intellettuale il politico hanno tutti quanti lo stesso diritto di parola anche questo anche questo è interessante le donne nelle crisi azzuse sono comandate da quella che viene chiamata con termine greco l'ho tradotto così per rendere la generalessa o la filosofa stonano in italiano ma stonano anche in greco perché non esisteva il femminile del generale e del filosofo e lei si chiama però Prassagora i nomi sono sempre nomi parlanti cioè sono nomi che portano ad un destino perché prasso da cui la nostra prassi pratica vuol dire fare e invece agoreuo significa parlare e allora Prassagora è un bellissimo nome con cui sbefeggiare gli uomini che parlano parlano e non concludono la pace e altre cose Prassagora è colui che agisce e parla o meglio colei che parla e agisce colei che sa tradurre in azione le parole e questo è importante le donne all'assemblea sono una commedia sicuramente di maggiore impegno concettuale la cui data probabilmente è il 391 quindi siamo più avanti rispetto 20 anni dopo la guerra del Peloponneso si è concluso ormai da una decina da una decina d'anni ebbene anche qui abbiamo a che fare con un'utopia un'utopia che si colloca su uno sfondo molto più grave perché ormai si sono acuiti i conflitti sociali ad Atene non ci sono più i soldi che correvano una volta i soldi disponibili del tesoro perché Atene aveva un impero eccetera è una situazione veramente allo sfascio in cui anche la politica non ha più delle persone come per esempio Pericle figura carismatica che era stato al potere di Atene per un trentennio e rispetto a questa situazione come si legge nella commedia i maschi sembra che vadano in assemblea dopo aver bevuto abbastanza perché le loro decisioni sono quasi decisioni da ubriachi e questo è questo che si dice le donne alla mattina presto si ritrovano perché vogliono fare un colpo di stato in che senso vogliono andare sulla pnice quindi occupare il luogo fisico in cui gli uomini dovrebbero riunirsi in quel giorno e vogliono appunto attuare un colpo di stato però fanno le prove si ritrovano presto all'inizio della commedia e cercano di mettere a punto un discorso che tenga e questa è la prova che Prassagora fa davanti alle donne e alleate soffro per tutti i guai della città e non so rassegnarmi la vedo mettersi sempre in mano a governanti disonesti se uno fa la brava persona per un giorno poi diventa un ladro per dieci ne scegli un altro e quello farà ancora peggio noi dobbiamo cedere il governo della città alle donne nelle nostre case non sono loro ad amministrare tutto questo è il discorso che lei con tanto di barba farà agli uomini sostenuta dalle donne vestite da uomini e che sarà determinante perché le donne acclamino a sufficienza e il potere alla fine sia concesso alle donne questo testo è che l'argomentazione forte di Prassagora per convincere gli uomini presenti che le donne ce la possono fare verte su un refrain che è come una volta immaginiamocelo come un rap va bene uno c'è la voce e gli altri ripetono insieme come una volta come una volta che poi è strano perché in realtà le donne stanno puntando a un rinnovamento ma dicono noi ce la facciamo perché facciamo tutto come una volta le donne insomma vale a capire va bene allora sono migliori di noi in tutte ve lo dimostro in primo luogo tingono la tana nell'acqua calda come si faceva una volta tutte senza eccezione poi friggono sedute come una volta portano la roba sulla testa come una volta cuociono le torte come una volta sfiancano il marito come una volta godono a far l'amore come una volta sono madri e il loro primo pensiero sarà di salvare la vita ai soldati una volta al potere nessuno potrebbe ingannarle tanto sono abituato a ingannare gli altri se fate come vi dico la vostra vita sarà felice per sempre quel sono bravo a ingannare è una concessione al pubblico maschile presente all'assemblea ma l'idea è straordinaria diamo il potere alle donne perché così la felicità è assicurata per sempre e appunto dicevo della contraddizione tra il comune a volta e la rivoluzione politica non so se si vede ma quelle sono le donne della realizzazione scenica a Siracusa di qualche anno fa che hanno vinto hanno conquistato il potere e festeggiano la cosa incredibile cioè la cosa che voi vi ricordate quando cadde il governo Prodi ci fu un ministro di destra o comunque un parlamentare scusate che esibì l'azione di mangiarsi la mortadella secondo la critica che si muoveva a Prodi che chiamavano mortadella qui il regista qualche anno fa ha ripreso questa idea e ha fatto in modo che le donne per festeggiare la conquista del potere compiano lo stesso gesto quindi questo è anche interessante perché io lo dico perché me lo ricordo ma diversi di voi si ricorderanno quella scena perché fu abbastanza imbarazzante e irrispettosa al di là delle idee politiche non è stato un bel gesto e quindi qui è interessante che il regista di questa rappresentazione a Siracusa abbia pensato di riprendere questo motivo le donne si travestono partecipano all'assemblea e dichiarano un nuovo regime e gli uomini eccolo qua il marito di Prassagora perché abbiamo cambiato commedia si chiama Blepiro e Blepo in greco vuol dire guardare e alla fine questo può soltanto costui può soltanto guardare quello che fanno le donne ad incominciare da sua moglie ed è un nome parlante anche questo cioè lui fa lo spettatore perché è vestito da donna che bellissimo l'attore vestito da donna perché lei si è alzata presto per andare all'assemblea come tutte le altre e hanno rubato i vestiti agli uomini e quindi lui arriva sulla scena lamentando dove è finita sua moglie ma sulla scena arriva e ha un problemino fisiologico gli scappa e quindi deve andare da qualche parte a farla perché non può fare diversamente mentre lui è lì tutto che intento al suo e a qualche problema ce l'ha fisico sul quale naturalmente informa gli spettatori perché questa è parte del linguaggio della commedia si parla anche di oscenità di sesso il linguaggio della coprofagia si dice del linguaggio sceno mentre lì che fa quello che deve fare o cerca per lo meno arriva il vicino e si mettono a parlare come se niente fosse e il vicino però arriva dall'assemblea e il vicino si chiama cremette mentre lui è giù chinato che spinge blepiro perché lui dice dolori eccetera che non riesce ho reso l'idea basta vado avanti blepiro dice lo informa che i britani no è per dire che ho purato le slide cioè ho messo le cose che a un gentile pubblico come dicevano quelli si può presentare ma nel testo ci sono tanti riferimenti simili per la semplice ragione che è teatro popolare è la grandezza di Aristofane che ti dice cose serie ma è capace di raggiungere le vette della poesia e anche allo stesso all'opposto il profondo del pozzano i britani che sono i magistrati più importanti cremete dunque sta informando l'altro che è chinato i britani avevano deciso di mettere all'ordine del giorno la salvezza della città a un certo punto si fa avanti un bel giovane e prende la parola ed è lei con la barba vestita comincia a dire che bisogna affidare la città alle donne e la massa di gente è giù con gli applausi a gridare che aveva ragione e questo è cioè questo è alla fine Prassagora il marito non si capacita e Prassagora poi arriva sulla scena questa è l'attrice dell'edizione appunto di Siracusa arriva sulla scena e proclama la legge di Prassagora che è una legge che le donne hanno deciso di stabilire che cosa stabiliscono di originale a che cosa ci mette davanti Aristofane ci mette davanti al comunismo cioè ci mette davanti all'idea della comunione dei beni della comunione degli uomini e della comunione scusate dei beni degli uomini delle donne e dei figli e quindi si taglia con la proprietà privata e si taglia con i legami familiari e quindi è una proposta che possiamo tranquillamente definire oddio tranquillamente possiamo definire comunista l'idea è bella in sé perché l'argomenta bene Prassagora dice potremmo tutti vivere meglio se tutti vivono con poco e allora noi dobbiamo immaginare che per quello che lei dice Atene si presenti come un enorme open space in cui non ci sono più le mura non ci sono più le proprietà private e potremmo con termine moderno pensare a una prospettiva di decrescita di decrescita consapevole in cui in sostanza non si ha più il mito della proprietà del denaro dei soldi dell'imperialismo delle conquiste dei commerci si vive meglio concentrandosi sulla dimensione locale questo è quello che pensa di imporre Prassagora naturalmente questo è quello che lei dice sulla carta quello che decidono altro invece è il discorso che della seconda parte della commedia perché poi è interessante osservare che poi Prassagora esce cioè la protagonista fa tutto nella prima parte poi gli spettatori non restano a bocca asciutta perché in realtà la parte divertente è verificare l'attualità del progetto e allora sono due i versanti uno è la messa in comune dei beni e la seconda che verifichiamo ovviamente è la possibilità che ci sia una comunione nell'amore in comune le proprietà in comune le donne e qui e qui cosa pensa un evasore perché anche quella volta c'erano gli evasori quelli che non pagano il furbetto che ti che crede che sei stupido se non parcheggi lì non si può parcheggiare ma io parcheggio lo stesso il furbetto che aspetta che non paga ce ne sono tanti fin troppi e qui anche quella volta c'erano perché sono fotografie di allora come anche fotografie di oggi io consegnare la roba sarei un disgraziato uno senza cervello vaglierò per bene la situazione e ci penserò su il mio sudore i miei risparmi non sono mica così idiota da sbatterli via per nulla in modo così stupido prima voglio informarmi bene su come sta la cosa insomma il prototipo del furbo a rivista c'era c'era già quella volta uno che però vuole beneficiare dei vantaggi perché ci sono anche i pranzi in comune quelli sì però di mio non porto niente e allora è interessante anche questa testimonianza che leggiamo perché la scena successiva in cui parlano uno che invece si prepara onestamente come dice il decreto le donne hanno deciso così e così si fa si prepara ad ammassare tutti i beni e lui invece che non ci pensa nemmeno cos'è tutta questa parata e voglio consegnare queste cose alla città in piazza secondo le leggi vigenti vuoi consegnare certo allora sei un disgraziato che dio ti protegga come sarebbe come che domanda non bisogna forse obbedire alle leggi ma che leggi povero te ma le leggi vigenti le leggi vigenti sei proprio un imbecille imbecille io e no sei il più scemo anzi il re degli scemi ma ma perché faccio il mio dovere ma perché chi ha la testa a posto deve fare il proprio dovere senza dubbio eh sì vuoi parlarmi da cretino e allora c'è questo da fastidio non so voi poi non si sa se resta impunito ma sembra che fare il proprio dovere sia da disgraziati e questa cosa qua non va tanto bene ma evidentemente Aristofane ha voluto dedicare una scena anche ad uno che non ci sta l'altra scena invece divertente ancora di più è la scena in cui si deve verificare se effettivamente ci possa essere il comunismo in amore cioè se effettivamente ci può essere un amore libero ma è difficile da attuare perché l'idea che le donne siano in comune per la proprietà transitiva presuppone che anche gli uomini siano in comune e allora che cosa succede? succede che un giovane poverino si trovi nella necessità no nella volontà del desiderio di andare dalla sua bella e viene intercettato da tre vecchie che non sono vecchie sono delle laide megere che si presentano una dopo l'altra sulla scena e hanno il decreto in mano e il decreto stabilisce che c'è un ordine non di comparizione ma di soddisfazione le vecchie vanno assolutamente soddisfatte per prime lui sta andando della sua bella la intercetta lo intercetta una prima vecchia le donne hanno decretato che se un ragazzo desidera una ragazza non può far l'amore con lei prima di aver posseduto una vecchia e se rifiuta la vecchia e vuole ciò nonostante la giovane le vecchie hanno la facoltà di portarselo via tirando per il piolo a questo punto lui è già malmesso e dice oddio la morte faccia eccetera e è contenta la prima che va fuori gongolando e arriva la seconda vecchia che dice dove porti quest'uomo contro la legge il decreto dice che prima deve fare l'amore con me e la giovane dice povero il giovane dice povero ma da dove sbocchi tu strega maledetta ecco una disgrazia peggiore di quell'altra non è finita perché la seconda vecchia dice in nome della legge devi seguirmi e arriva la terza che dice no se c'è una vecchia più orribile quindi la situazione è veramente incredibile perché mettetevi nei panni del giovane è una situazione davvero davvero incredibile però si ride con Aristofane e la situazione è che si ride e si riflette e allora adesso noi entriamo nell'ultima parte abbiamo ancora qualche minuto per saltare dal comico al filosofico perché questa è la parte più interessante che ci permette di entrare nel laboratorio di Aristofane cioè nel laboratorio del comico che non capita spesso perché noi abbiamo a che fare con testi che sono degli unici no? facciamo conto che fra duemila anni trovino la sceneggiatura di Sanremo d'accordo? non sanno fra duemila anni chi si ama Deus non sanno non possono sapere perché sono intercorsi molti secoli faccio un esempio del genere per dire che quello che noi leggiamo capiamo in parte perché tanti riferimenti nomi propri di persona non sono immediatamente comprensibili però il fatto è che al di là dei singoli casi specifici la satira si nutre dell'attualità c'è un fatto più ampio cioè c'è un fatto che questa che Aristofane propone è un'idea che non solo lui propone da comico è un'idea che era di frequente messa in scena nel corso del quinto e quarto secolo ed è un'idea lo ribadisco incentrata sull'utopia cioè sull'idea di una città ideale perché evidentemente questo tema era terreno fertile per i comici per la semplice ragione che gli intellettuali dell'epoca e questo lo sappiamo dalle fonti antiche spesso trattavano o avevano cercato di delineare di descrivere una loro città ideale cioè il piano di Aristofane il progetto di proporre un'utopia al femminile in realtà sembra tanto la risposta a quelli che seriamente ci pensavano a quelli che consideravano che effettivamente si potesse fare qualcosa per uscire dalla situazione di stallo negativa della città inventando delle nuove regole puntando in alto questo tra i tanti dobbiamo occuparci di Platone perché Platone nella sua repubblica descrive la Callipolis cioè la città bella che è bella proprio perché è giusta e bene nella Politeia di Platone abbiamo proprio riferimento esplicito al comunismo all'idea della comunione dei beni questo è molto interessante perché allora possiamo capire che visto che sono contemporanei allora qui si ride con Aristofane ma evidentemente la pulce all'orecchio gliela deve aver messa qualcosa o qualche idea che girava per Atene Platone dunque delinea la sua Callipolis in cui parla del comunismo in cui parla di uguaglianza tra uomini e donne cioè nella città che sarà nelle aspettative di Platone uomini e donne avranno gli stessi ruoli anche ruoli di potere perché riconosce che uomini e donne hanno le stesse attitudini naturali e pertanto anche alle donne spetterà un'educazione identica cosa che non era a quella degli uomini ma poi ci sono anche altre cose interessanti che segnano e ci addentriamo su questo terreno l'ultimo aspetto che approfondiamo insieme proprio segnano le corrispondenze tra il punto di vista del comico e quello che Platone seriamente aveva trattato anche Prassagora esita a dire le sue idee perché ha paura delle reazioni degli altri è così Socrate che è il protagonista della Repubblica esita a parlare della Callipolis entrambi dicono scrivono sia Aristofane che Platone che bisogna fare della città un'unica casa però per intenti diversi perché per Socrate bisogna puntare alla felicità e alla concordia per Prassagora invece è questione di sopravvivenza e si sopravvive se si punta al risparmio e all'uguaglianza e poi soprattutto entrambi su fronti diversi pensano di dare il potere a chi per tradizione ne è escluso Platone dal potere ai filosofi i filosofi non si occupano del potere e Prassagora dal potere alle donne ci sono anche tanti punti in comune cioè ci sono tutta una serie di motivi che tornano in entrambe le opere una filosofica e l'altra comica il riconoscimento che le donne hanno delle potenzialità intellettuali il puntare a eliminare l'ingiustizia sociale la rinuncia alla proprietà privata l'amore libero e il comunismo sessuale la fine dei processi i pasti in comune e fine della casa privata le recite epiche a promozione del coraggio scusa il prof interviene un attimo le recite epiche vuol dire recitano l'epica per promuovere il coraggio e questo su cui dobbiamo puntare anche a scuola cioè si promuovono dei testi delle idee perché bisogna promuovere qualcosa che va dal di là delle aule scolastiche il coraggio la capacità di e poi i sorteggi pubblici questi punti sono in comune sia nel piano di Prassagora che nell'idea di Socrate non si può dire chi abbia copiato chi cioè resta uno dei più grandi enigmi della letteratura greca però possiamo azzardare dicendo che quello di Platone è un comunismo serio e Aristofane abbia voluto volgere in ridicolo fare una parodia di quanto Aristofane aveva proposto anche le date coincidono perché siamo nei primi decenni del quarto secolo avanti Cristo la cosa interessante è questa l'opera La Repubblica costò parecchi anni di lavoro a Platone però all'epoca non c'era il nostro supporto tecnologico ma è possibile che una prima stesura o parte dell'opera già circolasse magari nei circoli intellettuali più o meno ampi qualcuno avrà messo all'orecchio di Aristofane la pulce Aristofane avrà percepito nell'aria che Platone stava parlando seriamente di un nuovo regime eccetera e ha colto subito il momento l'ispirazione giusta per scrivere la sua commedia e allora questo ci dice che ad Atene all'epoca evidentemente è possibile che l'opera di Platone già circolasse che i comici prendessero in giro Platone e che Platone respingesse le accuse per quale ragione? Perché nel testo della Politeia Socrate dice di temere le ondate dei comici le ondate cioè significa che i comici Platone lo sapeva li davano contro andavano giù pesante e lui la risposta di Socrate è che sì i comici ridono ma perché evidentemente non ci sono arrivati non sono arrivati a capire quello che è il progetto pedagogico politico a cui Platone guardava e quindi la sua risposta alle ondate dei comici parla proprio di ondate e che non sanno cogliere se non il frutto della sapienza ancora acerbo e siamo arrivati alla fine nel senso che dalle ondate dei comici possiamo concludere in merito al discorso che questa ondata di Aristofane è arrivata fino a noi questa sera cioè le idee camminano nel tempo no? attechiscono ma le idee nei libri ci permettono di confrontarci perché leggiamo ancora perché leggere ancora Aristofane ma perché evidentemente Aristofane questa sera ci ha fatto ridere ci ha fatto riflettere no? perché le cose che dice riguardano i conflitti all'interno di una città riguarda l'essere cittadino riguarda la condizione degli uomini e delle donne riguarda l'educazione dei giovani e sono tutti temi con i quali ciascuno di noi nel vissuto si trova a misurarsi no? non sono evitabili e i classici in questo senso contribuiscono non poco e io credo da insegnante che abbiano un valore formativo perché ci mettono di fronte alla necessità di porci anche noi delle domande i classici non danno le risposte ma i classici ci insegnano a porci le domande e allora in questo senso vorrei concludere con una frase di Giuseppe Pontigia uno scrittore che ci ha lasciato qualche anno fa che dice questa bella cosa dice che dimenticare i classici in nome del futuro sarebbe il fraintendimento più grande semplicemente perché i classici sono la riserva del futuro grazie grazie a tutti Grazie a tutti.